Sto costruendo con gli stessi tasti di foro Ragazzi ho deciso che oggi finisco Perché sei stupido Your pipi small Un zicono se provi Se fai questo c'è il cazzo piccolo Non so No No perché ho detto lo so No taglialo No taglialo E' la sericiglione E' vero che un pece d'aprile è ancora bella come canzone Ma anche il livello E' bello Anche il livello E' bello come livello Si Vediamo se lo scuola 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 Ma domani che cazzo c'ho lo scuola A parte grammatica che sarà L'impossibile Classe viva No vabbè c'è italiano è basta Si si è fattibile Basta sta wave di merda Sì Sì Troppo Sì Troppo Sì Troppo Non è Ah ha No, vincula Eh, che che Eh Bello Cioè non so fare il pipidroppo Niente, il pipidroppo è impossibile Questi due ordinello Come cazzo si fa a farli Bello anche questo Ecco, devo spammare Con il cuglione Per gitterare Cioè quando arrivo al drop da zero Sono i due orbi di Mer E poi qua c'è questo Cioè i due orbi di Mer E poi c'è il ragno di Mer Devo fare i compiti e poi le 4 vado a spugger fuori E poi c'è il ragazzo 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 C'è il ragazzo E poi c'è il ragazzo Fatta Ho finito 50 demon Venite a me Dai 3 coin Vabbè Lo mettiamo a sto livello Eh si questo qua lo faccio dopo Allora Io non sono da livelli XL Questo qua mi ha aiuto particolarmente perché Intanto È Recentemente divertente E poi è sa Intridabile del tutto Qua dobbiamo so di aver fatto Qua sono 13 di line 176 199 189 189 si 189 si Una minchiata è Giornata da 89 Attempt Vabbè Relativamente facile Ve lo consiglio Se volete Provare a fare Dei livelli lunghi Non è tanto difficile Può fare Secondo me Se siete Decenti Detto questo Addio È stato bello Vado a pisciare Ciao Vabbè Grazie a tutti warning Vabbè Io Vabbè Ho Spod ups Vabbè Com Vine Un